E ciao a tutti ragazzi vi do il benvenuto in questo nuovissimo video, innanzitutto vi auguro un buon martedì mattina a tutti. Attenzione perché oggi ci saranno i CPI numbers in zona americana e questo ovviamente si potrebbe tramutare come uno dei giorni più importanti per tutto novembre, almeno per ciò che riguarda i dati di carattere fondamentale. Attenzione perché in base ai dati che usciranno potremo capire la tendenza di breve e medio termine per tutti gli asset a risk on, compreso anche il mercato delle criptolute. Oltre a ciò ovviamente voglio mostrarvi dei grafici on chain molto molto interessanti. Prima però di andare a vedere tutto nel dettaglio ti chiedo come sempre di supportare il canale lasciando semplicemente un like e iscrivendoti al canale stesso. Hai fatto? Perfetto, non perdiamo altro tempo e passiamo con la visuale a PC. Perfetto ragazzi, partiamo immediatamente con i dati di carattere fondamentale che usciranno durante la giornata di oggi. Mi voglio concentrare solo ed esclusivamente sui dati che usciranno oggi, anche perché come ho detto anche nell'intro, oggi uscendo i CPI numbers, il dato che verrà maggiormente preso in considerazione per la prossima sessione dell'FOMC che avverrà precisamente il 13 dicembre 2023, esattamente tra un mese. Possiamo vedere che uscirà il core CPI, ovviamente dato mensile, e il CPI compreso del settore energetico e del food. Per quanto riguarda appunto il CPI abbiamo uno 0,3% di forecast, ovvero un'aspettativa di mercato, con un dato precedente medesimo dello 0,3%. Abbiamo ovviamente anche il dato annuale, però staremo un po' a vedere. Sarà interessante però in base al dato che uscirà, se discordante o meno rispetto alle aspettative, come varieranno le aspettative appunto delle analisti di mercato sulla prossima sessione dell'FOMC che ricordo avverrà il 13 dicembre 2023. Abbiamo ad oggi un 85,7% di una stazionalità dei tassi, staremo a vedere un po' come si evolverà in base ovviamente alla pubblicazione dei CPI numbers, ok? Adesso infatti andare a contestualizzarli non ha assolutamente alcun senso. Passiamo con il mercato crypto. Esattamente il 17 novembre, giorno di questa settimana, possiamo vedere che ci saranno due scadenze per quanto riguarda la decisione da parte della SEC di una possibile approvazione o meno degli ETF spot. In questo caso sono gli ETF spot, o meglio le application, presentate alla SEC da Franklin Templeton e Ashdex. Molto probabilmente potremo vedere, rimbalzare anche questa volta queste due richieste e possiamo vedere che comunque sia le ultime scadenze per ciò che riguarda queste ultime due application saranno il 30 maggio del 2024 sia per Franklin Templeton che Ashdex. Quindi anche se rimanda diciamo a questa sessione, a questa scadenza più che altro la SEC alla prossima, comunque sia non è l'ultima e di conseguenza non dobbiamo assolutamente impaurirci. Secondo me il mercato è scontato al 99,9% una posticipazione di queste due application e è un po' quello che mi aspetto anche io, ovvero un posticipo di verdetto. Interessante vedere come a partire dall'11 gennaio 2024 il Chicago Board of Option Exchange, che è il più grande exchange per le option in America, lancerà i propri prodotti futures con margine sia su Bitcoin che Ethereum. Il tutto supportati dai giganti della finanza tradizionale e quelli del mondo crypto. Questo infatti è stato dichiarato proprio nella giornata di ieri dallo stesso Chicago Board of Option Exchange e molto interessante come la finanza tradizionale stia creando sempre più strumenti per andare ovviamente a replicare l'andamento di Bitcoin e di conseguenza anche di Ethereum in questo caso perché possiamo vedere l'ha lanciato anche su Ethereum. Durante la giornata di ieri il CEO di Grayscale ha detto che fino adesso abbiamo assistito soltanto a 10 anni diciamo di riscaldamento e adesso il mercato è pronto per il main event. Io credo che appunto il CEO di Grayscale si stia rivolgendo ad la conversione del trust di Bitcoin in ETF Spot. Credo che abbia molto più informazioni di noi, essendo ovviamente il CEO di Grayscale e di conseguenza stia per anticipare una possibile conversione dato un possibile accordo con la SEC. Ovviamente queste sono soltanto mie speculazioni in base al tweet rilasciato da lo stesso CEO di Grayscale però ovviamente come potete capire questo tweet lascia appunto intendere questo. Staremo a vedere, attenzione perché nelle prossime ore barra prossimi giorni potremmo vedere ovviamente positività soprattutto su Bitcoin innescata da una possibile accettazione da parte della SEC della conversione del trust di Grayscale in ETF Spot. Volevo riportarvi un dato molto interessante che ci fa capire che ancora i retail investor non sono tornati. Infatti possiamo vedere sul ballare delle ricerche, almeno contestualizzato da un lasso di tempo che va dal 2016 fino praticamente a ieri, in zona statunitense, le ricerche di Coinbase. Infatti possiamo vedere come nel 2017 abbiamo assistito in concomitanza proprio degli all-time high di Bitcoin di questo medesimo ciclo. Per quanto riguarda le ricerche proprio di Coinbase, lo abbiamo assistito in tutta la Burran del 2021 e in questo caso, nel momento in cui sto registrando, non abbiamo assolutamente un incremento di ricerche. Questo vuol dire che chi c'è a mercato e chi sta appunto muovendo il mercato non sono retail investor. Come abbiamo detto anche negli scorsi video, i retail investor, per i retail investor non intendo quelli che operano con poco capitale e diciamo i trader e gli investitori autonomi, ma intendo appunto la massa che poi va ad investire, a buttare soldi a caso sul mercato delle criptolute, ancora non è arrivata. E sapete benissimo quanto questi player a mercato, molte delle volte, il 90%, stanno a portare con sé anche il top di mercato e possiamo vedere che siamo ben lontani dai top precedenti di mercato per quanto riguarda le ricerche di Coinbase che è uno degli strumenti più utilizzato dagli investitori retail, soprattutto in zona statunitense. Volevo prendere in considerazione con voi questa precisa analitica on-chain che prende in considerazione il comportamento di una specifica supply annualizzata e possiamo vedere che tutte le volte che veniamo da un bear market, questo indicatore on-chain ritraccia, poi fa una fase di consolidamento, dopo poi abbiamo assistito, a livello statistico, sempre ad una grossa crescita del prezzo di Bitcoin che viene ovviamente seguito anche da questa metrica on-chain. È successo così nel 2012, è successo così tra il 2015 e il 2016, è successo così nel 2019, è successo così nel 2020 e ci troviamo infatti anche qui dopo il top, ritracciamento della metrica o insieme al prezzo di Bitcoin, stazionamento orizzontale proprio di questa metrica e adesso, se dovesse avvenire come negli scorsi cicli, praticamente come tutti gli altri cicli precedenti, potremmo assistere ad una crescita esponenziale di Bitcoin. Ragazzi, ci tengo sempre a contestualizzare, qui stiamo parlando di un grafico decennale, anzi pluridecennale, perché prende appunto addirittura i dati pre-2011. Quindi ragazzi potete capire che un frammentino piccolo così sono praticamente 3-4 mesi, quindi nel mezzo può succedere di tutto e questa metrica on-chain potrebbe non variare anche se Bitcoin tornasse verso i 25.000 dollari tra un mese. Quindi ragazzi prendete con le pinze ovviamente questi grafici on-chain perché prendono un lasso temporale veramente, veramente ampio. Perfetto ragazzi, partiamo con la visuale su CryptoBubbles per vedere un po' come si è comportato il mercato nelle ultime 24 ore. Come potete vedere il mercato non si è comportato chissà quanto bene, almeno in top 100 sulle maggiori altcoin. Infatti siamo quasi tutte in ricorrezione. È anche vero che è una ricorrezione portata da un impulso rialzista molto forte su praticamente quasi tutti gli asset. Ho preso come esempio FTX token, che vabbè qui abbiamo una storia dietro, possibili acquisizioni eccetera eccetera. Allo stesso modo, mentre la maggior parte delle altcoin in top 100 sottoperformano o comunque sia ritracciano, possiamo vedere che abbiamo BGB, il token ufficiale di BitGit, che guadagna un 13,7% nell'ultime 24 ore, assistando a un gain del 27,7% mensile. Guardate che bell'impulso che ha avuto durante la giornata di ieri. Interessante, interessante. Abbiamo Maker che guadagna un 10,6%, Matic anche qui un 6,3%, assistando a una performance mensile a quasi l'80%. Bene, bene, bene. Sono molto contento. Ma in linea generale abbiamo un mercato in top 100 in ricorrezione. Se andiamo a vedere anche i BIG, praticamente abbiamo una tendenza stabile. Anzi, Bitcoin perde un 1% scarso nell'ultime 24 ore, assistando il proprio prezzo a 36.500 dollari. Rimane fino alla fine di questo video perché voglio andarvi a mostrare chiaramente come le zone di liquidazione sono dei punti chiave che Bitcoin va a prendere. E vi dico la verità, voglio mostrarvi una zona molto interessante che un po' mi impenserisce, sono sincero. Comunque, Ethereum prende, guadagna, possiamo così dire, uno scarso 1% nell'ultime 24 ore, assistando il proprio prezzo sopra la soglia comunque dei 2.000 dollari. Attualmente a 2.057 dollari. Comunque potete vedere che il mercato è un po' fiacco nelle ultime 24 ore. Allora, andiamo a vedere Bitcoin. Bitcoin sul grafico del CME, possiamo vedere che sul grafico One Day siamo andati, poi non ve l'ho detto negli scorsi video, a colmare questo enorme gap che si era generato tra i 34.500 fino ai 36.000 dollari, ragazzi. Quindi diciamo che questo possiamo cancellarlo molto molto bene, ok? Però comunque sia passiamo con Bitcoin contro il dollaro americano, ok? Nella giornata di ieri vi avevo detto, ragazzi, attenzione perché si sta conformando questo triangolo di compressione, triangolo di compressione che dopo un grosso impulso a livello statistico potrebbe rompere verso l'alto. Così non è stato, infatti abbiamo avuto più probabilità di romperlo verso il basso, infatti si è rotto verso il basso. Però vedete comunque le zone che contrassegniamo negli scorsi video, comunque sia nelle scorse analisi, fungono proprio da zone di reazione per quanto riguarda la price action di Bitcoin. Infatti durante la giornata di ieri, nonostante abbiamo perso terreno, siamo passati dai 36.900 dollari circa fino a un minimo, tra virgolette, di 36.200 dollari. Ovviamente questo è un grafico orario. Quindi lo scostamento è abbastanza esiguo se ovviamente prendiamo dei time frame più alti. Comunque sì, era per farvi vedere come queste zone, anche sui time frame minori, sono utilizzate dalla price action di Bitcoin. Allora, ragazzi, purtroppo vi devo dire questa cosa qui. Almeno che noi tra oggi e domani recuperiamo alla grande almeno i 37.100 dollari circa, questo potrebbe verificarsi come un pattern tra virgolette negativo. Potrebbe essere magari un ritest fino ai 36.900 per poi andare a ricercare, ritestare, di andare a rompere questa zona rossa, ok? Ovviamente soltanto il tempo ce lo dirà. Oggi ci saranno i CPI numbers, come abbiamo contestualizzato anche all'inizio di questo video, che potrebbero fare da catalizzatore qualora uscisse un dato troppo negativo, o meglio che il mercato sconto come negativo e potrebbe appunto generare un po' di selling pressure e verificarsi proprio questa tipologia di pattern. Comunque staremo a vedere. Bitcoin dominance, Bitcoin dominance, ragazzi, sta perdendo terreno, sta perdendo terreno, ve avevo detto, ragazzi, nella giornata di ieri. L'importante è che regge questa zona rossa, ok? Questa zona rossa ha appunto come rimbalzo. Vedete, la giornata di ieri ci dice tanto in realtà, ci dice quanto siamo arrivati a zona 51,7%, poi subito riassorbite, abbiamo avuto una grossa volatilità per quanto riguarda la dominance di Bitcoin. Però, ragazzi, potete vedere che comunque la tendenza è debole per quanto riguarda la market cap. Quindi, se tra oggi e domani non riusciamo a avere un bel impulso e Bitcoin non riesce a recuperare rispetto alle altcoin, purtroppo potremmo vedere sfondare questa zona, che è una zona molto importante perché la prossima zona d'appoggio potrebbe essere 51,6%, però in realtà quella più interessante potrebbe essere la 50,8%. Staremo a vedere appunto. Ethereum anche qui reagisce alla lettera proprio a questa zona e possiamo vedere che comunque anche nella giornata di ieri ha avuto un grosso impulso che è stato rimangiato quasi totalmente dai sellers, ok? Praticamente qui abbiamo avuto una forte distribuzione di Ethereum al mercato che ha portato ovviamente a ricorreggere il prezzo. Anche qui stessa cosa. Lo scenario più bullish che vorrei vedere è superare i 21, 22, ma soprattutto andare a stazionare all'isopra di questa zona rossa. Volevo farvi notare una cosa sui mercati tradizionali, ragazzi. Mercati tradizionali, possiamo vedere che a partire dal 19 luglio 2023 abbiamo sempre assistito sul Nasdaq a una tendenza negativa. Infatti abbiamo sempre avuto massimi inferiori ai precedenti con ovviamente stessa cosa medesima dei minimi inferiori ai precedenti. Vedete come però negli ultimi giorni abbiamo rotto la trendline, ok? Che ci portavamo dietro, come ho detto prima, dallo scorso 16 luglio 2023. Rotta, ritesta e adesso sembra che abbiamo avuto un bel impulso. Ragazzi, se riusciamo a superare questa zona qui, la zona dei 15.550 circa, potremmo addirittura riarrivare ai 15.840. Solo ad allora, alla rottura di questo livello, potremo andare a toccare i livelli molto più alti. Mi azzardo a dire zona 16.450 dollari circa, ok? Andiamo a vedere però la liquidation heatmap. Liquidation heatmap, che come vi dicevo ragazzi, è un fattore da prendere molto in considerazione, perché le liquidazioni fanno da calamita per quanto riguarda la price action di bitcoin, ok? E potete vedere che nelle ultime ore si sta conformando questa zona, ok? Zona dei 37.500, che su un grafico a tre giorni, cioè vuol dire che appunto dall'inizio alla fine qui sta prendendo in considerazione tre giorni di price action su bitcoin, è la zona più importante a livello di liquidazione su bitcoin. Ragazzi, attenzione perché potremmo vedere riarrivare la price action in questi livelli, il che non ci farebbe assolutamente piangere, diciamo. Però come vi dicevo, si sta conformando una delle zone di liquidazione più grandi mai viste almeno per quanto riguarda nell'ultimo mese. Infatti abbiamo delle liquidazioni del calibro di circa 1.29 miliardi, almeno quanto ci riporta appunto Coin Glass. Spero vivamente che questo dato sia sbagliato, ma non credo che sia così. E ragazzi, attenzione, perché qui è una zona di forte, fortissimo interesse. Potremmo appunto nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, qualora la debolezza di bitcoin si presentasse, diciamo, potremmo appunto arrivare a toccare questi livelli qui. Perché ragazzi, qui si parla di zone ad alto interesse speculativo. Perfetto ragazzi, siamo giunti alla fine di questo video. Ti ricordo che qui sotto nei commenti e in descrizione trovi tutti i link con i relativi bonus per andare ad operare sui maggiori exchange all'interno del mercato delle criptolute. Se non l'avessi ancora fatto, ovviamente ti chiedo di supportare il canale lasciando semplicemente un like e iscrivendoti al canale stesso. Per gli iscritti invece, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Ciao!